Assalamu alaikum Italia, mi chiamo Edi Maman, sono originario del Niger, non Nigeria, mi raccomando. Sono regista, attore e anche scrittore e sono regista di Yaron Daji. Se io ti racconto questa storia ai bambini e poi mi chiedi ma che ho quello bambino e ti dicono sono io, allora c'è un'altra fiava. Tanti bambini mi hanno fatto la domanda e io ho dovuto rispondere alla loro domanda e poi ho spiegato che questi bambini sono io e tutti sono rimasti come se sei tu. Io ho detto sì perché ho vissuto così, così, così. Allora siamo messi a pallare e veramente loro sono rimasti anche molto colpiti. Una cosa molto sorprendente ancora è di più del racconto, di più della fiava.